Siamo con Bill Terlato, Presidente e CEO della Terlato, uno degli importatori più importanti degli Stati Uniti. A lui chiediamo come stanno andando adesso le cose per il vino italiano negli Stati Uniti dopo un 2017 non troppo esaltante. C'è ripresa nel mercato degli Stati Uniti però nel 2018. I vini italiani sono sempre stati quelli con la quota di mercato più alta tra quelli importati e lo sono ancora. Il mercato sta ancora crescendo ma non cresce più come una volta. La percentuale di crescita si è leggermente abbassata di anno in anno. Man mano che negli Stati Uniti si è diffusa la cultura del cibo, i consumatori americani si sono spostati verso vini di qualità perché 30 anni fa, quando io ho cominciato a lavorare, in America non c'era la cultura del cibo. Adesso invece è presente e si è portata dietro la cultura del vino. Penso che le prospettive per il futuro siano buone, anche se siamo un po' preoccupati per i tassi di cambio. Un dollaro debole fa diventare più cari tutti i vini di importazione. In più, le ultime annate non sono state particolarmente produttive e anche questo avrà un impatto sul mercato. Come è cambiato l'approccio degli americani verso il vino italiano? Uno dei cambiamenti più importanti è che i giovani si stanno interessando al vino che si sta imponendo nella fascia di età tra i 21 e i 35 anni. Queste persone sono assetate di conoscenza e man mano che sanno di più sul vino acquistano prodotti sempre migliori e questa è per noi una grande opportunità per i prossimi 30-40 anni. Al di là dei grandi classici, quindi Barolo, Amarone, Brunello, Chianti Classico, il fenomeno Prosecco, quali sono i territori, i vini emergenti negli Stati Uniti dell'Italia? Lei ha nominato i vini più conosciuti ma ci sono anche altre realtà interessanti come alcuni vini bianchi prodotti in Veneto o il Prosecco che va fortissimo in tutto il mondo. Questo successo potrebbe essere un'opportunità per il Prosecco DOCG che attualmente ha quote di mercato abbastanza limitate. Man mano che i consumatori cominciano ad entrare in confidenza con il Prosecco cominceranno a cercare il miglior Prosecco. Poi c'è la Sicilia. Il vino dell'Etna rappresenta un'opportunità per tutto il vino siciliano e quelli dell'Etna in particolare sono veramente molto apprezzati. Dicevamo che la cultura del cibo si porta dietro quella del vino. Oggi i consumatori hanno a disposizione molte più informazioni sul cibo italiano ma in particolare sul cibo locale e cercheranno i vini locali da abbinare a quei piatti. È vero che anche da voi il mercato si sta polarizzando sempre più tra prodotti entry level e prodotti premium dove Terlato peraltro è realmente uno dei più importanti importatori americani e i millennial stanno davvero cambiando il mercato? Certamente. Io credo che dato che il mercato è in crescita indipendentemente da quale sia il punto di partenza il consumatore tende sempre a salire di livello perché più comincia a comprendere il vino più va in cerca di prodotti di qualità. In particolare i millennials sono una generazione che è cresciuta con scarpe da 100 dollari ai piedi e jeans da 200 dollari quindi per loro spendere 40, 50 o 60 dollari per una bottiglia di vino non è così stravagante come poteva esserlo per le generazioni precedenti. Questa è una grande occasione per coinvolgerli nel consumo di prodotti di qualità. Infatti saranno una generazione che berrà meno ma meglio. Non vorranno certo bere in quantità prodotti di basso prezzo e basso livello. I problemi italiani sui fondi OCM e promozione in qualche modo si stanno sentendo sul mercato USA o no? Certo, possono essere utili. Ogni volta che hai l'opportunità di moltiplicare le risorse che hai per la promozione è importante sfruttarla. La sfida è riuscire a superare la burocrazia che crea tanti problemi. Bisogna essere sicuri di aver riportato tutti i dati richiesti in maniera corretta, di aver fornito le informazioni giuste per accedere a quei fondi. Questa è la sfida.